Non più un'autostrada, ma un'autostradina. I sogni di gloria dei sostenitori dell'autostrada del Molise devono fare i conti con la Stan in Review e con gli obiettivi di altre regioni e altri politici, spesso più forti dai nostri. La Mara Verità è venuta fuori nel corso dell'incontro all'abbazia di San Vincenzo tra Riccardo Nencini, Vice Ministro alle Infrastrutture, il Presidente della Regione Frattura e l'Assessore ai Lavori Pubblici in Agni. È stato proprio Nencini a dire all'inizio tutta la verità. Nel corso di una tempestosa riunione del Cipe a fine giugno all'ordine del giorno c'era addirittura la revoca totale del finanziamento al Molise. Solo la sua strenua difesa dell'opera, così ha detto lo stesso Nencini, ha evitato la definitiva cancellazione del finanziamento. Ma al Molise comunque un bel taglio era già stato fatto, infatti si è scesi dagli iniziali 500 milioni a soli 200. Tanti quanti basteranno, se basteranno, a fare una mini-autostrada tra Boiano e Castel Petroso, rimandando al libro dei sogni ogni eventuale progetto di prolungamento. Le parole di Nencini sono state avallate anche da Frattura, che ha aggiunto come fosse stato un errore parlare fin qui di Termoli San Vittore. La realtà, ha sottolineato il governatore, è che il progetto dell'autostrada è sempre stato quello della Termoli Boiano. Insomma, ricapitolando, per ora al Molise sono stati assegnati solo 200 milioni. Per il resto si vedrà. Quando si vedrà. Ragion per cui l'ipotesi più accreditata è che, alla fine, con solo 200 milioni a disposizione, l'autostrada si risolva in una duplicazione del rettilino di Boiano tra Cantalupo e Vinchiaturo, senza viadotti e gallerie, opere per cui bisogna stanziare tanto denaro che non c'è. E ancora resta la domanda finale. Siccome si tratta di un'opera da cofinanziare, si riuscirà a trovare un privato disposto a tirare fuori altri 200 milioni per realizzare un tratto autostradale di una ventina di chilometri? Un segmento così limitato, quali incassi potrebbe garantire al privato per tornare in possesso dei capitali anticipati? La realtà presumibile e che, alla fine, come anticipato da Franco Valente, streno oppositore dell'autostrada, con quei soldi si potranno solo pagare le parcelle dei progettisti e poi, per il resto, campacavallo. Per Nencini bisognerà puntare soprattutto sui fondi strutturali 2014-2020, se l'autostrada dovrà uscire davvero dal libro dei sogni. Ma Nencini non ha solo parlato di autostrada a San Vincenzo, infatti ha anche anticipato che è intenzione del governo finanziare l'interporto di Termoli. Qui i soldi già ci sarebbero, in quanto per il governo Renzi, Termoli, per la sua posizione strategica, rientra a pieno titolo tra i centri obiettivo di spesa.